E' Andrea Benesson! Buongiorno a tutti! Andrea Benesson! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Perché ho visto tutta la sera che ti tocca! Anche l'anno scorso! Sì! Questa è una storia che dura da anni! Sì, sono sempre! Sì, ora siamo senti! Sì, è pronto! Sì, è pronto! Uno che gira io o che gira io? Insieme! Insieme! Vieni qua amore! Fatela girare! Giro la ruota! Giro la ruota! Viva la ruota! Vieni insieme alla truppa! Puoi giocare anche tu! Siamo a fermare, ragazzi, su poesia! Sì, è proprio l'ultima casella della poesia! Potrei suggerire che hai bisogno una poesia! Quindi, Benesson adesso... Se ti metti e ti ricordi... Purtroppo! Dovrà recitare... Una poesia o una parte di poesia... Una poesia! Dov'è? Sì, insomma... Ovviamente verrà premiata la tecnica, ma anche la fantasia... Come questo... Dai, vai scusa... Spiega che... Perché se... Fa che vi sii... Spiega! Voto che ti dà ispirazione benissimo! Ma tu c'hai già una poesia lì dentro... Diciamo! Vabbè! Vabbè! Montarle se niente! Montarle se niente! No! No! Non l'ha capito? Montarle o... Montarle! Montarle! Si si sa... A-R! Si si sa... Vado! Vai! vabbè... Vabbè... È un músico veintile... È un músico imbobile... Dato il moltassos vino... Siente la spolla in melo wind! Au mai tantsHow... Vabbè! che fatos no, sei finita no, no, ma sei giusto pensavo al testo te la faccio il testo pensavo che cosa il resto, scusa no, se te metti il cuore al tenne me lo so di fine quattro strofe no, no, ma sei sufficiente abbiamo quattro in italiano un grossissimo applauso Andrea Benesso tra l'altro il massimo so la nebbia gli ulti colli però non arrivo dopo so la nebbia gli ulti colli più vicinando sale e sotto il maestrale pura di anche c'è il mare comunque Benesso bisogna essere spompata questa routine qua per me è la routine la vie insieme eh, ho paura mi amico che sia qualcosa di tenero fra i due finché si che qualcosa è tenero va bene ancora bene eh, se si che qualcosa è duro di quanto mi rapporti si intesi se che le fatica eh, 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 sì grazie a tutti